Quindi ragazzi, eccoci a un nuovo episodio di Tales of Arise. Eravamo rimasti che dovevo fare secondo livello, anche se ci sta un'altra missione in giro. E così, così, mi viene voglia di farlo. Questo per vedere che cos'ha. Ma anche no. Ma anche no. Sicuramente ci vorrà... Chissà che a livello stanno. E poi te li fanno fare uno dopo l'altro. No, no, no. Non mi conviene fare il secondo livello di quello. E... aspetta. Immagino che per fare quella missione dovresti avere tutto potenziato. Ho preso le armi che le sblocchi qua. Ok, noi andiamo al secondo. Barco della sinfonia. Quindi qua che fai? Te ne dormi indietro? Qua sono chiusi? Chissà. Ah, no. È una specie di labirinto. Che cos'è? 64. Dovresti usare quelli di terra. 64. Quindi ti fanno salire un botto. Quindi proviamo a scendere di qua. O ce lo facciamo prima tutto? No, io direi di tornare indietro e faccio tutti quelli che salgono sopra. Allora, no. Devo andare su questo. Oh, vedi? Sono andata da una parte nuova. Allora. Allora. Ma non è che siano sto gran cast di quei peggio menti, eh? Io prima di andare a destra o a sinistra mi farei tutti i posti che stanno qua. Allora... Ok. Ma dobbiamo beccare. È riuscita. Prendiamo questa qua. Dove ci porta? Ah, quindi piano piano ce li sblocca. Quindi devi prendere come dicono loro. Eh, deve essere questo qua? Ah, perfetto. Li ho presi. Mamma mia, che è quel coso? Bello forte. Ma chissà se si aprivano tutti quanti? Oh, era proprio così. Bene, affrontiamo il mini boss. La schiena è uno solo. No, questo dovrebbe essere... No, non è questo il fratello. E' santa nuda. 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 Non capisco che attacchi sta a fare. E' santa nuda. Abbiamo atterrato? Eh, praticamente questo è l'attacco. Alza in volo e rompe le balle. Praticamente questo è l'attacco. Alza in volo e rompe le balle. Alza in volo e rompe le balle. Un grande balle. E' l'attacco, non capisco che stai. Il tereno di ripi. Nu face le balle. Allora mi metà. Allora, la giù è la capa di non capisco. Non capisco che stai con il maso. Eh, mi ha fregato. Mi ha iniziato a usare le braccine. 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 Andiamo 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 a usare le braccine. Vediamo se possiamo vendere qualcosa. Andiamo a usare le bacconi con dolore. two grandi pausate. Andiamo a usare le braccine. Andiamo a usare le braccine. Andiamo a usare le braccine. Niente di nuovo, praticamente. Devi sempre cucinare quello della difesa. Ce l'ho, sì, io voglio. Eh, il ladder non ce lo fa fare. Mi ha fatto l'applauso perché abbiamo mosso un po' la spada. Credo che non c'è un punto di trasporto. Dove ritornare indietro fino al teletrasporto. Che una rottura di palle. Barco dell'abisso. Stiamo a 3, quindi stiamo alla metà. Immagino che dovremmo farci attacchi di fuoco. Ah, qui, questi sono a livello 70. E sono d'acqua. Vedi? 70. Ma vediamo se questo qua è quello che ci dà questo mastodontico. Non ho visto che l'ho mandato. Allora. Allora. C'è arrivati. Vado dopo con sto livello. No, perché non si vede nessuno? Sono a 72, quindi... Da 75. Moshe, fratello. Nooo. Non ci mette le menti. Dio, odiavo questo qua. Ne so due. Questo? Di che cavolo è? Luce? Fuoco? Vabbè, parto con uno quello di fuoco. Mamma, come la vedo male. Va va! Morta. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Come la vedo male. Ah non ho visto manco a che livelli sono. 75, lui c'avevo ragione io. Che cosa posso fare? Non giocherò mai. No, non è cosa. Torniamo indietro. Mi risale è almeno 75. Troppo forti. 82, lo facciamo così. Se mi faccio le altre missioni che avevo in giro... Potrei fare questo, mi so. E che ero lo stesso più o meno cavallo del cavolo. Ma io avevo aumentato le abilità? No. 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 Quattro. Infatti benissimo. Ah, perché se stannia? Cat quindi scaccio sia davanti che dietro più ti fa gli attacchi nel 54 nettamente inferiore ecco 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 Grazie a tutti Quindi questo cambia Cambia elemento in base a come gli gira Dai, ribelliti E' morta Grazie No, no, finché mi cura Sono già morta No, è troppo forte sto cavallino Ed è uno solo E siamo a 54 Io sto a 72 Un ampio vantaggio Qui ne sono tre No, non esiste Non ce la faremo mai Grazie a tutti Ah, mi sono morta. Ok, io so lo che è. Stavo scudo davanti e non si capiva. Finito, grazie via. Mi ricordavo che era molto piovato, ma comunque è difficile. No, no, è sicuramente la fantomola di Navira. Sì, ho capito in quel libro che abbiamo trovato prima. È non davvero per il tutto. In realtà... Quindi è come si è stato il nome, allora? Certo, non è un po' di... ...positive. Ma è così grande che potrebbero aver visto l'anno Beh, certo, ma... Hey, chi importa dove ci si vede? Besides, che zoogle è quello che ci si vede da visto prima, certo? Yeah È un'ottima giovane l'anno qui, tu dovrebbe veramente portare Sion Right It took a molto per arrivare qui, ma non mi sembra che un mio sogno è stato vero Grazie, Law Non ho fatto molto molto, veramente Beh, ancora davvero appreciate Hai perso il momento Però beh, era un'altra situazione, dai Lui dall'ignoto Quindi non dovevamo riportarlo da qualche parte Aspetta, fammi vedere Ma mi sa che era finito così? Adesso c'è rimasta la torre Ma guarda, senti a sto punto Facciamoci pure la torre Così ci rimane solo quello Ma allora la torre stava Sì, qua Vediamo se è No Sta più sopra il coso Ok Vai con l'ultima missione che ci rimane Settanta Settanta E sessanta si Sì, si può fare Sì, ci rimane solo Sì, ci rimane solo Sì, ci rimane solo Non sta capendo niente Ah, ok Sacco lo sa Ma ok Adesso arriva il mostriciatolo grande Come lo facciamo a sconviggere? Ah, ok Ci manda le cose a distanza Sì, ci rimane solo Adesso Grazie a tutti Ma poi che fa questo di attacco? Non capisco, ci manda sempre la roba avanti La cosa di più grande ce l'ha mandato Questo e poi Ma questa era la gallina Alla Grazie a tutti Ah ma peccato solo a me Niano è morta Alla Ma che ci ha mandato gli altri? Non capisco Non si capisce niente Sì ci ha mandato di nuovo Le altre Ah quindi Non si capisce niente Ok sono ritornati di nuovo con il lucertolone Alla Beh è giovane Ma che mi fa? Chi ci mandi mua addosso Ah ok Quindi che mi devo fare? Dove lo difendere io? Dove va? Ma stiamo sopra? Quindi devo attaccare come se non ci fosse domani Ma ma che è sta cagata? Beh vabbè no vabbè Sembrava chissà come che dovevi fare per ammazzarli Perché poi l'ultimo con Alphen? Doveva andare chiunque? Sì Sì La energia astral è disbversa Sì 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 Oh sangue di drago Qua non ci danno niente? No c'è solo una scenata? Sì 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 Ma poverino, non ha detto niente. Allora. Allora, se non potrebbero essere riusciti con il vento per arrivare più velocemente. C***! Certo. Hey How? Yeah Why you? Wait What? I see Huh? Hmm Thanks Wait Huh? Really? Good All right Così, a tara luce fine Oh Vediamo di chi era Alf? Che c'entra Alf? Così, se ne è uscito Alf Così Così Quindi Kisara e Ringwell le ho tutti al massimo. Le ho sbloccate tutte le abilità. Aff, me ne manca ancora uno. Pion ce l'ho pure tutti. Sì, invece no, le ho proprio amplificate. Ma c'ho solo quelli degli LC. Ah, là mi manca uno. Ma sicuramente si sbloccherà da qualche parte. Alla prossima. Alla prossima. Allora. Quindi mi manca solo... ...solo dell'Oltremondo. Mi sa che ci hanno messo questo. Ah sì, fammi vedere se sono riuscita a ottenere qualcosa. Cosa? Magari va che arma? Allora. Allora. No, ancora no. Allora. 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 che cosa è questa cosa? Sì, senza un minimo di spiegazione, speriamo che non l'ho mai salvato. Ma non volete vedervi i menzi nudi? Quindi che devo fare? Perché qua non si sta vestito? Perchè? Perchè? Noi? Noi! Perché io faccio questo? Prendete la mano, Dohalim? Grazie. Ah! Tu davvero hai knickers! Questo senti davvero molto bello. Certo, è sicuramente valore il lavoro. Mi sento più tiredo di più che mai. Dohaleem? Cosa è quello? Oh, è per aver il servizio prendere un minuto. No, mamma. impazzito Oh, si è perso un pezzo. Così... è finito così? A parte loro non lo fanno. Eh, quindi gli dà l'asciugamano. Ah, tutto qua. Ma io volevo vedere la parte di loro. Ah, ci sta, ci sta la parte loro. Manca la femmina. Sì, è finito. Sì, sento vivo. Questo, da noi più amici. In realtà, questo è bello. Non ho mai pensato che potrei avere un gruppo con te ragazzi. Pag. Ion, il tuo pezzo è così fissile. Come ti faccio? Tu devi raccontare il tuo segretto. Oh, grazie ragazzi. Il sembra così rosso. Voglio riuscire e toccare. Hey, hai dimenticato, ricordi? Pag. Ma, grazie. Ok, puoi salire. Sì, è quello che sarebbe andato Gion andando nudo. Ok, puoi salire. Alphen, cosa succede con voi? Non c'era parte di nulla. Tu devi credere. Questo è un passaggio fantastico. Sì, dovremmo tornare una volta. Noi due, per favore. Credo che alcune palle sono più restate non montate. Non ha sbloccato, però l'ha sbloccato. Finirà questa l'abilità? Non c'era l'ha sbloccato. Non ci pensavo veramente. Invece no, e non ho preso in giro. Ok, questo l'abbiamo fatto. Vediamo qualcos'è da quell'altra missione. Questa è quella che devi curare la gente per strada? Questa è un passaggio. I see Mm-hmm All right Very well How does this voice recording thing work Uh Looks like we made it here in one piece Looks like we made it here Hmm, so you have to talk to the people that have given you the mission? Hmm, so you have to talk to the people that have given you the mission? Gotcha Watch it Hey 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 Yeah ho detto secondo piano allora c'ho ragione io dobbiamo parlare con tutti quelli che ci hanno dato le missioni always good to be back in familiar territory hmm perhaps Sì 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 Ma che è sta missione idiota? Cioè ci dai soldi? Manco ci sbloccasse chissà che cosa... Sì 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 quindi ragazzi mi sa che abbiamo finito le missioni e solo solo questo ah we finally made it something feels odd here be on your guard ok allora per adesso siamo a livello 73 e purtroppo il boss della terza chiave sono 3 cavallini come le rompiscatole e non lo so se ce lo facciamo sono a livello 75 ma secondo me pure che sono a livello 75 cioè pure se noi arriviamo a livello 75 la vedo difficile perchè sono proprio bronzi come nemici quindi perderò tempo a livellare oppure finirò così se ne importa anche perchè fra un po uscirà un altro gioco che mi voglio fare che è super robot wars 30 è uno strategico a turni con i robottini e è uno di una lunga serie gli altri non li conoscevo manco quindi probabilmente poi cercherò di recuperarli più avanti e quindi ancora mi sa che esce il 28 quindi nel frattempo tra il 28 fino adesso vediamo se riusciamo ad andare avanti con questa missione altrimenti lo metto da parte per dopo e mi inizio questo nuovo gioco comunque diciamo che fino adesso si livellava abbastanza bene i personaggi però quel boss è proprio ostico vedremo se vi è piaciuto il video mettete un like se volete vedere come va avanti questa missione iscrivetevi al canale ciao ciao ciao